L'Estonia celebra la propria indipendenza, la dichiarò il 24 febbraio 1918, si scatenò poi una guerra con la loro Unione Sovietica che ebbe inizio quando i tedeschi dopo la resa nella prima guerra mondiale si ritirarono dai territori estoni. L'armata rossa ritenne di poter riprendere il controllo con la forza nel vuoto di potere lasciato da Berlino. Per questo la guerra tra Estonia e Mosca durò fino al 1920, oggi Tallinn convive con il potente vicino ma le paure del passato non sono scomparse. Grazie a tutti.